ecco siamo nella strada per andare alla cascata di catafurco in diretta con una gs adventure per cui chi lo vede si può rendere conto se è una cosa che lui può affrontare o meno diciamo che è abbastanza almeno fino adesso è abbastanza semplice non ha non c'è niente di particolare però più avanti non lo so vediamo che si è abbastanza semplice Questa è una minchiazza Un saluto capa dietro Questa è una cosa di quarta pulita Questa è una corsoia Mi sono trasformato Sì, non lo faccio vedere con la mano Vedi dove stanno incontrata? Stai incontrata qui, stai incontrata Stai incontrata qui Stai incontrata qui Stai scopendo ma tranquillo c'è la macchina davanti non c'è la scassata perché si rallenta si ferma e quando vedo che non si vede che si rallenta ma che lo vogliono lo faccio di tiro ma che stanno facendo il tiro ma senti molto bene A presto . . . . Sottotitoli Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu puoi passare?